Wow, grandi amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale, ben ritrovati in questo nuovo video Siamo qui oggi con un nuovo episodio del Road to 99, un po' di stretching per partire ci sta sempre E sono qui per farvi una proposta indecente Niente di che, non vi preoccupate, semplicemente ho avuto un'idea Come potete vedere qui dal calendario, abbiamo vinto di nuovo, siamo in strisce di tre vittorie consecutive Una vittoria importante con i Bucks che sono primi nella Easter Conference, quindi una vittoria importante Noi siamo secondi con 10-4, quindi una partenza di quelle giuste E adesso abbiamo quattro partite di quelle proprio belle, pum pum pum, così Stavo pensato di portarvele tutte e quattro Oggi andremo a giocare quella con New Orleans e dovremmo poi finalmente finire anche la barra per finalmente poter diventare 90 di overall Vi porterò anche quella con Houston, perché Houston è una bella partita Adesso sono 7-8, non capisco perché, forse c'è qualcuno infortunato Ma sapete che in realtà sono una forza della NBA E poi abbiamo le due contender per eccellenza Warriors e Cleveland, anche due e due stanno facendo schifo 9-5 e Cavalers 7-7 addirittura Stavo pensando, Golden State e Cleveland, di portarveli in una live Voglio giocarci due partite assieme e casomai per chi non riesce a esserci La ritroverà sul canale e si potrà vedere dopo Perché comunque sono due partite carine, con due squadre forti, che è giusto portarle sul canale Quindi fatemi sapere nei commenti e con un bel pollice di suo a questo video Se volete vedere questa live sarà di pomeriggio sicuramente A metà pomeriggio, tipo magari più verso sera Insomma, comunque ripeto, se non ci siete alla peggio la ritroverete sul canale dopo Comunque fatemi sapere se vi può piacere come idea Intanto adesso andiamo a giocarci a un partite contro New Orleans Che purtroppo, in realtà, adesso dovrà sopperire in non so che modo la mancanza di DeMarcus Ma qui ci sono ancora tutti e due e sarà una bella sfida Smoothie King Center, signori Per la partita non mi ero neanche accorto che giocavamo in trasferta Sarò sincero, è una partita ancora più difficile Allora, vediamo se sono tutti holiday, make and more, bohame Sì, addirittura ci sono rinforzati perché Mohamed nel gioco è un gran, gran tiratore Quindi, ancora più difficile questa partita Siamo in una streak di tre vittorie consecutive Sarebbe importantissimo portare anche la quarta a casa Dopo le cinque che abbiamo fatto nelle partite precedenti a questa Palla due persa, vediamo un po' come va la partita Bello lì, secondo rimbalzo Gran taglia fuori su Cosis Potrei anche attaccare dal palleggio Guarda Minou che ha tagliato, gran palla sotto Nessuna gran palla in realtà Un bel passaggio backdoor però Affondata con la bimane Primo assist di serata Da lì è così Tra l'altro nella vittoria contro qualcuno che non vi ho fatto vedere Abbiamo spiorato per un assist la tripla doppia Eccola qua la prima sfida Palla sotto per DeMarcus Mi fa saltare sulla finta ma meno male non tira Rimaniamo lì, bella difesa E con DeMarcus purtroppo è anche così Prendiamo il canestro 7-4 per noi Comunque dammi la palla che me la gioco subito di nuovo in post basso Gli torniamo, vediamo se riusciamo a girare attorno Con un bel layup arriva l'aiuto di Anthony Davis Sbagliamo e non ci fischiano fallo E lo facciamo noi Oltre dando la beffa Complimenti Ok E quella qua la mirata Stavolta sì Stavolta sì Ma bisogna una palla Poi cominciamo a fare le cose un po' più carine Intanto andiamo sulle sicurezze per i nostri primi due della partita Non manca neanche così una vita al cartellino ammettista Bello ancora la difesa Scurriamo la vallata e prendiamo pure il rimbalzo E dalla da Minu che ha corso bene Buttati dentro Sì Sì a Minu Oggi la connection La sento La sento Secondo l'assist per te Torniamo sopra con un possesso pieno di vantaggio 14-11 per la precisione Eh raga ho schiacciato X una volta di troppo Era dopo un time out Scusatemi Rientriamo comunque a fine Metà Secondo quarto Sopra di 3 34-31 il punteggio Vabbè raga abbiamo fatto un onesto primo quarto 6-5 Due assist più che onesto Mi suona pure il telefono E sono onesti pure i messaggi step back free Di Mohamed Che sbaglia Vola qualcuno rimbalzo Ma lo prendiamo noi Pensavo l'avessero preso loro Hanno cambiato Dammi sta palla Dammi sta palla Dio Sì Ok Così Bravo Bravo Boom Di potenza Sconquassata l'area dei Pelicans Quando sono fuori gli altri E la terra non dentro Ma erano portati in campo Ma erano portati fuori Allora 3 dai miei compagni 3-6-3-1 Ottavo punto Per noi mi è piaciuto Questo proprio di potenza Cambia qui Ok Mamma che brutto tiro Che ti sei preso Bosch ed è pure entrato Più 5 8 punti 8 rimbalzi 3 assi 8 punti Sono pochi Però guardate il punteggio A fine secondo quarto Quasi Cioè Basso è dir poco Cambiamo Cioè deciditi Una volta sì Una volta no Ok Stai lì Stai lì Stiamo su Anthony Davis Guarda che bene che lo marchiamo Bah No Ma dove vai Con sti floater Carroll Non sapevo neanche Che fossi Pelicans Carroll Ma che sta a fare Bosch Avevi preso Oddio Raga Calma Non facciamo le cose Troppo fuori dalla nostra portata McCollum Esatto Esatto Però Vabbè Più schifo fanno i tiri Che prende il computer Più segnano Ero da solo Bello là Fatto sta che siamo a più 9 3 secondi da giocare No Non prendiamo No eh Oh sì guarda che ci regalano anche l'ultimo tiro Siamo andati in doppia cifra di vantaggio Come potete vedere Un secondo e 4 Ci cambia Non volevo provare a fare la magata L'ultimo secondo Va bene 46 Non l'abbiamo segnato Siamo comunque a più 11 Punteggio Basso Non bassissimo Come era all'inizio Solo 8 punti con noi Ma quando ti scontri con DeMarcus E Anthony Davis È un po' così Appena ripartito il secondo tempo Ragazzi Siamo in Non controllo Mi verrebbe da dire Però in vantaggio Abbastanza agevole Lillard Altro tiro schifoso E altro canestro Non capirò mai Con quale legge Questi Per quale legge fisica Dovrebbero entrare questi canestri In faccia DeMarcus Certo è che Lillard È un talento sovraumano E siamo sopra di tre Ci ridendo E scherzando Ancora lo scontro diretto Qua sotto Vediamo dove ci porta Fade away in post Altro canestro Va bene In realtà non sta facendo Esatto Non sta facendo grandi cifre Siamo più o meno lì Un po' meglio Io Un recupero Proprio dovremmo averlo fatto Anche noi Abbiamo anche tre assis Noi comunque Quindi capite che Ci stiamo un po' Nullando a vicenda Mi par di capire Dall'andazzo Della partita Portiamo due blocchi A Lillard qui sopra Il secondo Il nostro lo sfrutta Per poi fermarsi Allora non capisco Cosa serve Che te ne porti un altro Quando già il primo Potevi segnare E guarda che tiro Finiamo a prendere Magari lo segna pure E niente Si fa Gliela la virata Mi faccia così Bam Lì così Ovviamente un lampo Che ci porta in doppia cifra Doppia doppia Che raggiunta Più 8 Eravamo tornati solo a più 6 No non cambiare Non cambiare Bravo Esatto Bella difesa Bravi Occhio all'uscita Ok non gliel'hanno data sotto Bene abbiamo Bucato qualsiasi tipo di difesa Eppure ha funzionato Adesso segnerà Invece sbaglia pure Allora ripartiamo Che non è tornato nessuno Dammi sta palla Minuno In corsa Che non sono capace Invece forse sì E invece no Adesso datemi la palla Perché è entrato questo lungo qua Non so chi sia Ma sono usciti gli altri È il momento di attaccarli Usiamo 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 Tutti i nostri metri Che abbiamo Ringrappe Avanti Non so chi sia Deve essere un rookie Creato dal gioco Probabilmente ho qualcuno Che non ho mai sentito nominare Quanto sta di nuovo Più 8 12esimo punto Adesso li massacriamo Un po' lì sotto Perché è giusto così Quando escono I big two Dobbiamo Dobbiamo approfittare Ma che fai Ma dai Ma Per 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 Perché Quarto Tra l'altro Nel terzo quarto Guarda che mi tocca Uscire anche a me Adesso Volevo apposta Approfittarne Di sto doggy Che non so chi sia 6355 Un minuto Abbiamo Siamo stati fuori Veramente poco Al Jefferson Ma quanti lunghi Ha sta squadra Ma Ma che quintetto è DeMarcus Indovidevis Al Jefferson In campo contemporaneamente Ma perché Sì Che facciamo sbagliare cose Siamo anche pieni di falli Bosch Mamma Forse non era neanche buono Uh Che fatica Sta partita 63 A 57 A fine terzo quarto Punteggio Non basso Di più Via di quarto quarto Ragazzi Sempre più 6 Che Vabbè È un vantaggio Ma sicuro Non è Mamma Quasi ci scappava un recupero All'inizio Abbiamo 5 falli Vi ricordo 5 Ancora uno E siamo seduti Ben ced Fino alla fine Beh però È però Larry Johnson Presente Presente Anche il Trevor In questo video 14 14 più 14 Come Tez Fanno schifo Il libero Che va dentro Veramente per caso And One Di nuovo Più 6 Bene così Dopo rimbalzo Offensivo Di cattiveria Proprio Mamma Altro rimbalzo Altro rimbalzo Parla per me Column Sei solo No Sì Un assist Madonna Il 74 Tentativo Quarto Arsiz Di serata Più 9 Di nuovo Quasi doppia cifra Di vantaggio Sarebbe importantissima Prenderla in questo Quarto Quarto Sì ancora Sì ancora Sì ancora Cosis Non ha voglia di tagliarci fuori Lo puniamo Anche Correplay Mamma mia Partoriarmi Del parcheggio Doppia cifra Di vantaggio 17 Più 17 Di una partita Orribile In cui Nessuno fa canestro Ci facciamo sentire Noi là sotto I Pelicans Ovviamente ci provano Sono qui Per vincere Meno 6 Con 5 minuti da giocare Un maxi supplementare Che in realtà Cominciamo già avanti Quindi proprio di supplementare Non ha niente Riceviamo palla qui Vediamo se Anthony Davis Può essere anche Preda delle nostre virate Doppia virata Ebbene sì Ebbene sì In un modo o nell'altro L'abbiamo parlato a casa Bene così Gli facciamo anche You can see me Perché un po' di trash talking Alla gioia NB ci sta sempre Di nuovo più 8 Quinto fallo di Anthony Davis Anche per lui Ha un fallo Come per me Volevo dire Un fallo Dall'esclusione Della partita Lillardati 2 tiri liberi 22 con 7 su 14 3 su 5 Da 3 Mi pare un'onestissima partita Ci ridà Più 12 Che è quasi il nostro massimo vantaggio 3 minuti e 50 Da giocare Basta non fare minchiate E l'abbiamo provato a casa Ragazzi Per Per prepararci Le tre partite Che ci aspettano Poi vincere qui È un risultato molto importante C'apete pure il Diciottesimo Se non sbaglio Rimbalzo Lancio lungo Per Aminu Assis no Altro rimbalzo Continuo a non capire Queste cose Va bene Alta grande difesa Con 5 falli Veramente una grande difesa Questa Con 5 falli Ma che palla persa Sarebbe quella lì CJ Ma che sta a fare Vabbè Qui ci prendiamo il canestro No volevo fargli un altro blocchetto Io ho fatto così Vediamo se per una volta Me la passa Oh E lo vedi che però Se me la passassi più Di qualche volta Guarda che belle Che verrebbero queste cose Oh bravo Così che bella Questa connection Finisce qui ragazzi Ultimi 3 secondi 90-81 Ruggiato finale Vittoria Importante Brutta C'è da dire Brutta Ma è importante Perché se segni 90 punti E riesci a vincere Anche abbastanza agilmente Vuol dire che la tua difesa Tiene E tiene per davvero Quindi questo è un ottimo Ottimo Risultato Anche in ottica playoff Quando le difese Si faranno serie Sotto canestro Quasi 14.000 punti Che ci portano Al 100% Signori Vediamo cosa ci sblocca Non l'ho visto Non l'ho visto Vabbè Torniamo anche ai 40.000 BC Bene Che ultimamente Non se ne facciamo Molto Perché non c'è molto A migliorarci Ma nei prossimi episodi Andremo a migliorarci Eccoci qua Allora ci ha aumentato Sicuramente le stoppate Perché mi ricordo Che eravamo rimasti Al minimo E secondo me Allora Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Ci vediamo domani Con un nuovo video Fatemi sapere Mi raccomando Mi piace E commenti Per la stream Bella